Al via dal 19 al 24 luglio il Castellabate International Film Festival terza edizione, la festa del cinema realizzata a Castellabate dall'assessore all'istruzione del Comune Elisabetta Martocelli in collaborazione con la dirigente scolastica Gina Moriello dell'Istituto Comprensivo Castellabate e il regista Gianni Petrizzo. La manifestazione cinematografica patrocinata dal Comune di Castellabate quest'anno si svolgerà presso il Castello dell'Abbate con la partecipazione in concorso di film a tema libero provenienti da tutto il mondo e divisi nelle sezioni lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d'azione, videoclip, social film e sperimentali. Una sezione speciale dedicata alle scuole di Castellabate che ogni anno realizzano cortometraggi su tematiche di interesse sociale. Il 19 luglio, dopo la cerimonia di inaugurazione, saranno proiettati in pubblico i lavori delle scuole della precedente edizione che a causa del Covid-19 non hanno potuto ricevere il meritato premio Flora Guida. Dal 20 al 23 luglio seguiranno proiezioni inedite di film nazionali ed internazionali con cerimonia di premiazione il 24 luglio. La manifestazione inoltre si arricchisce con una serie di attività che si svolgeranno all'interno dello storico Castello. Animazione, talk show, laboratori cinematografici, teatrali, magia, yoga, country dance, clown. L'evento coinvolgerà residenti e turisti, le associazioni, le attività imprenditoriali e i giovani del territorio. Un progetto in cui l'amministrazione comunale crede fortemente il commento dell'assessore Elisabetta Martuscelli. Nonostante la pandemia, il progetto è proseguito giungendo al terzo anno consecutivo insieme ai veri protagonisti dell'evento, i nostri piccoli attori della scuola dell'infanzia e gli studenti della scuola primaria e secondaria che finalmente vedranno proiettati i loro capolavori, confrontandosi nello stesso tempo con la cinematografia di altri paesi. Evento straordinario, commenta il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, che colloca Castellabate al centro del mondo e che attraverso i messaggi dei giovani promuove tematiche rilevanti e universali. La partecipazione di autori di film stranieri e film nazionali rende Castellabate ancora una volta protagonista nel mondo del cinema e meta turistica di prestigio.